Nel castello ducale di Bisaccia Marco Memoli ha allestito un'affascinante mostra fotografica dal tema Irpinia d'Oriente d'Occidente. Gli scatti dell'artista si soffermano su paesaggi e volti dell'Irpinia. Io racconto un po' l'attualità della nostra terra e le contraddizioni che ci sono anche nel nostro territorio. Spesso e anche mi piace molto parlare con le persone e vedo quest'odio e amore per questa terra che per me è sbagliatissima. Perciò nella foto cerco sempre di portare avanti proprio il territorio, proprio l'Irpinia, l'Irpinia in generale. Lo scopo di Marco Memoli dall'animo sensibile è quello di raccontare attraverso la fotografia la storia del territorio irpino perlustrato da Memoli che è riuscito ad immortalare la bellezza di un vasto territorio. La storia del territorio irpino per l'animo sensibile è quello di raccontare attraverso l'animo sensibile è quello di raccontare